La contezza della morte risale all'alba dell'umanità. Con l'arrivo di Homo sapiens la morte di un membro della comunità ha cominciato a richiedere azioni, offerte e corredi ben codificati in quello che viene comunemente definito come rituale funebre. I rituali funebri nel momento in cui viene a mancare un membro della comunità servono a mantenere l'ordine sociale, alla ridefinizione dei rapporti all'interno del gruppo e alla gestione della perdita anche da un punto di vista affettivo. Con il termine di sepolture anomale o devianti ci riferiamo a rituali che presentano caratteristiche diverse da quelle in uso in una certa cultura e in un certo periodo. Tali diversità possono riguardare vari aspetti come la posizione del corpo o la messa in atto di accorgimenti vari. Le sepolture anomale riguardano personaggi particolari che in vita incutevano paura o erano ai margini della comunità. Mirano a limitare la possibilità da parte del morto di muoversi dalla sua tomba per ritornare tra i vivi. Il terrore dei Revenant ha infatti afflitto l'umanità dal paleolitico fino ai giorni nostri. Da sempre alcune parti del corpo appartenute a particolari persone sono ritenute più importanti. Per questo motivo possono divenire reliquie ed essere oggetto di culto. L'asportazione di parti del corpo, molto frequentemente del teschio, di un congiunto o di un personaggio notevole ha anche essa radici molto antiche. In Alzazia sono state trovate fosse comuni nelle quali un inumato principale è circondato da accompagnanti deposti in modo casuale, probabilmente sacrificati. Anche l'idea di esseri umani o animali sacrificati per accompagnare nel viaggio nell'aldilà un personaggio potente è sempre stata presente dall'alba dell'umanità fino ai giorni nostri.